L'eclissi totale di sole ha attraversato il continente nordamericano, dal Messico al Canada, la Luna ha oscurato la stella per 4 minuti. Il primo gruppo di militari tedeschi che rimarrà a distanza in Lituania è partito dalla Germania, soddisfazione da parte di Berlino, preoccupazione da parte di Mosca. Terminata l'eclissi di sole totale, centinaia di milioni gli spettatori, il prossimo evento previsto tra 21 anni. Il primo contingente di truppe tedesche destinato a rimanere a distanza in Lituania è arrivato nella capitale Vilnius. Secondo il ministro della difesa della Repubblica Baltica, Laurinas Kashunas, altri 150 soldati arriveranno ad ottobre. Faranno parte di una brigata che sarà poi creata nel corso del 2025 e che dovrebbe essere pienamente operativa entro il 2027. Da parte sua la Russia ha già manifestato la propria preoccupazione per il dispiegamento di truppe tedesche in un paese vicino, nonché partner della Nato. In particolare il portavoce del cremelino Dimitri Peskov ha affermato che lo spostamento di soldati dalla Germania alla Lituania rappresenterebbe un escalation delle tensioni, creando situazioni di pericolo per la Russia. Mosca ha inoltre fatto sapere che sarebbe costretta, se l'operazione venisse portata a termine, a prendere misure straordinarie per garantire la propria sicurezza. Al contrario il ministro della difesa del governo di Berlino, Boris Pistorius, ha spiegato che l'invio di truppe in Lituania rappresenta un passo importante per l'esercito tedesco. È terminata l'eclissi totale di sole, iniziata in Messico, il primo posto da cui è stato possibile vedere lo storico evento. E poi negli Stati Uniti, alle 20 e 40 italiane, la Luna è scivolata davanti al sole, oscurandolo completamente, abbastanza a lungo da far tacere gli uccelli e gli altri animali e da far spuntare pianeti e stelle. 15 stati statunitensi hanno avuto la possibilità di ammirare lo straordinario evento, mentre gli altri hanno comunque potuto vedere un'eclissi parziale. La durata varia a seconda della località e negli Stati Uniti quella massima è stata di 4 minuti e 28 secondi. Si tratta di una durata quasi doppia rispetto all'eclissi costa a costa degli Stati Uniti di 7 anni fa, perché la Luna era più vicina alla Terra. L'evento è stato ammirato da centinaia di milioni di persone, dato che la prossima eclissi di questo tipo è prevista tra 21 anni. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha messo in guardia da un possibile disastro dopo l'attacco contro i droni alla centrale nucleare di Zaporizia, in Ucraina. Il capo dell'Agenzia dell'ONU, Rafael Mariano Grossi, ha condannato l'attacco che ha colpito uno dei sei reattori nucleari dell'impianto controllato al momento dalla Russia. L'Ucraina ha negato la propria responsabilità in qualsiasi operazione militare contro l'impianto, mentre Mosca ha accusato Kiev. Tali attacchi aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare, ha dichiarato Grossi, che ha chiesto ai responsabili delle decisioni militari di astenersi da qualsiasi azione che violi i principi di base che proteggono le strutture nucleari. I danni registrati all'Unità 6 non hanno compromesso la sicurezza nucleare, ma si tratta comunque di un incidente grave che potrebbe minare l'integrità del sistema di contenimento del reattore. Dopo le pesanti inondazioni che hanno colpito la regione di Orenburg, dovute all'innalzamento delle acque del fiume Ural, sono scoppiate le proteste a Orsk, in Russia, dove i cittadini si sono riuniti per chiedere al governo un risarcimento e di adottare misure efficaci per rispondere all'emergenza. In tutta la regione sono state evacuate più di 4.000 persone e 23.000 case risultano allagate, di cui 7.000 solo a Orsk. A peggiorare la situazione nella cittadina è stato il cedimento di una diga, sul quale le autorità hanno avviato un'indagine penale per sospette violazioni edilizie. Il governatore della regione ha promesso un risarcimento mensile dal valore di 100 euro per sei mesi. Una coalizione di partiti di destra in Romania ha presentato la propria candidatura alle elezioni europee, previste nel prossimo mese di giugno, sfidando così l'alleanza che governa attualmente il paese e il movimento di estrema destra considerato in ascesa. L'alleanza della destra unita, secondo i sondaggi, è però indietro rispetto alle forze di centrosinistra. Il voto del 9 iunio è un voto decisivo, perché il potrebbe dare il semnale della voce di schimbare in Romania, che la terra non appartiene a tribunali che hanno occupato stati e instituzioni pubbliche, ma che la terra appartiene a cittadini romani. Secondo gli analisti, la nuova alleanza potrebbe ottenere sei seggi alle elezioni europee. I responsabili della coalizione hanno dichiarato che potrebbero presentare candidati comuni anche alle elezioni legislative che si terranno in Romania nel mese di dicembre. Il candidato al governo, Peter Pellegrini, ha vinto le elezioni presidenziali di sabato, cementando la presa del primo ministro filorusso Robert Fizzo sul paese. Fizzo ha orientato la politica estera della Slovacchia verso posizioni più filorusse. Pellegrini ha ottenuto il 53,26% dei voti contro il 46,73% di Korchok. Il presidente slovacco non ha molti poteri esecutivi, ma può porre il veto alle legge impugniarli davanti alla corte costituzionale. Peter Pellegrini győzelme megerősítheti Slovákia egyúttal a közép-európai régió oroszbarát politikáját. Robert Fizzo, ministerelnök, pedig, szovetségese az új államfő beavatkozása nélkül folytathatja programját. Magyar Atilla, Euronews. La Repubblica cieka investirá 6 miliardi di euro per quattro reattori nucleari per accelerare la transizione verde nei prossimi 25 anni. Attualmente sono in funzione due centrali di fabbricazione russa nel paese. Praga ha l'obiettivo di definire entro giugno i contratti per la costruzione delle centrali per cui competono da francese IDF e una societá sudkoreána. Ugyta cena, která nabídnou ty soutěžící, bude taková, která umožní dlouhodobě stabilní, nízké ceny energie jak pro občany, tak pro rozvoj energetiky a promyslu, tak určitě budoucnost je v obou dvou těchto jaderních elektrárnách navíšit tento výkon a skombinovat to s obnovitelnými zdroje. Un sondaggio Ipsos per Euronews indica che solo il 34% dei ciechi ritiene l'emergenza climatica una priorità. Il governo però ha l'obiettivo di aumentare la potenza nucleare del paese tra il 2029 e il 2040, in modo da abbandonare la produzione di energia a carbone, gas e petrolio entro il 2050. Il ritiro delle truppe israeliane dal sud della striscia di Gaza non significa la fine delle operazioni militari. I vertici militari israeliani hanno sottolineato che le truppe si stanno preparando per le missioni successive. E' stato specificatamente menzionato che un'operazione di terra rafa è ancora in agenda. Il primo consigliere militare della guida suprema iraniana ha dichiarato che le ambasciate israeliane non sono più sicure, ma il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che le forze di difesa sanno come gestire l'Iran. I colloqui di pace sono invece ancora in corso. Domenica il gabinetto di guerra israeliano ha ampliato il mandato della squadra per i colloqui al Cairo, nonostante le precedenti preoccupazioni circa la volontà di Israele di continuare i colloqui dopo che Hamas ha rifiutato l'ultima proposta di Tel Aviv. Lunedì per la prima volta nella loro storia, Regno Unito e Francia hanno unito simbolicamente le loro truppe nei cambi di guardia di Buckingham Palace e dell'Eliseo. Le due cerimonie sono state organizzate per celebrare il centoventesimo anniversario dell'Antet Cordial, l'accordo diplomatico del 1904 tra Londra e Parigi che ha risolto le precedenti controversie e migliorato significativamente le relazioni tra i due paesi, aprendo la strada alla loro alleanza nella prima e nella seconda guerra mondiale. I leader dei due paesi, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro Rishi Sunak non si sono incontrati dal vivo ma hanno parlato in videoconferenza discutendo di relazioni bilaterali. I ghiacciai dell'Austria spariranno tra meno di 50 anni. Le rilevazioni effettuate negli anni dal club alpino-austriaco mostrano una riduzione drammatica. Venerdì, gli studiatori del club hanno pubblicato un rapporto, che è una sentenza di morte. Da ist es in ein paar Jahrzehnten eigentlich vorbei mit den österreichischen Gletschern. Da bleibt vielleicht noch in kleinen Bereichen, schattige Lagen, vielleicht Glockner, Nordostzeiten, Bereiche im Ölztal bleiben noch zurück. Aber de facto in, sagen wir mal 40 Jahren, 45 Jahren wird es wahrscheinlich ziemlich eisfrei sein in ganz Österreich. Die Gletscher Österreichs kann man damit nicht mehr retten, denn die Systeme sind zu träge. Das heißt, das Verschwinden der österreichischen Gletscher in den nächsten Jahrzehnten ist nicht mehr aufzuhalten. Da müssten jetzt schon positive Massenbilanzen und erste Schneereserven in den Hochlagen der Gletscher sich zu bilden beginnen, damit die Gletscher in den nächsten Jahrzehnten wieder sich stabilisieren oder gar vorstoßen könnten. Die Systeme brauchen Jahrzehnte und die Zeit ist vorbei. Das heißt, hier geht nichts mehr. Negli ultimi due anni, uno dei 93 ghiacciai esistenti in Austria si è rimpicciolito di oltre 200 metri. Tutti gli altri, tranne uno, hanno subito riduzioni più o meno consistenti. Lo scioglimento dei ghiacciai è considerato uno degli indicatori più evidenti del riscaldamento climatico del pianeta.